Mi informo adesso Luca Marchetti che il giocatore è stato autorizzato a viaggiare dal Manchester United, a viaggiare in Italia, quindi Lukaku è in arrivo, vedremo che aereo prenderà dal Belgio, ma è in arrivo in Italia perché domani sosterrà le visite mediche con l'Inter. Questo vuol dire che praticamente l'ultimo passaggio sarà quello delle visite. È fatta, 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 fatta. Assolutamente sì, mancano solamente visite mediche ufficialità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.